Studi in Svizzera e desideri fare la differenza a livello nazionale e internazionale? Allora sei nel posto giusto. Siamo la VSS UNES-USU, l'Unione Svizzera degli Universitari. Siamo un'organizzazione mantello e rappresentiamo le organizzazioni studentesche di tutta la Svizzera. Lavoriamo insieme per tutelare i tuoi diritti e per rappresentare le tue esigenze. Studiamo nelle università, nelle scuole universitarie professionali, nelle alte scuole pedagogiche e nei Politecnici Federali. Come si può partecipare all'USU senza impegno? Nelle nostre commissioni. Qui puoi essere attivo senza la necessità di conoscenze pregresse e fare davvero la differenza. La Commissione d'Egalité, CODEC, è la commissione per l'uguaglianza dell'USU. Essa si occupa di raggiungere e mantenere l'uguaglianza formale ed effettiva per tutti i generi e per la comunità LGBTQIA+, nelle università svizzere. Per raggiungere i suoi obiettivi, lancia progetti concreti e conduce campagne. La CODEC lotta per il superamento della cis-etero-homo-normatività e del patriarcato. Si batte quindi per la libertà dalla discriminazione basata sul genere, sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale. Anche senza alcuna esperienza pregressa, è possibile partecipare attivamente e, ad esempio, avere voce in capitolo nei grandi comitati, nell'organizzare eventi, nel contribuire con idee e così via. Potrai inoltre acquisire competenze preziose, ampliare la tua rete di contatti e fare esperienze importanti che potranno esserti utili nella tua carriera futura. Impegnati ora per un futuro migliore nelle nostre università. Contattaci senza impegno all'indirizzo info-vss-unes.ch o scrivici sui social media. Non vediamo l'ora di conoscerti!